ciao a tutti oggi vi mostro come realizzare questa borsa che è molto dettagliata a diversi dettagli poi vedrete all'interno del video e l'ho realizzata con i cotoni della nuova collezione gutterman most beautiful come pezzi abbiamo questi rettangoli che useremo per la parte esterna e appunto ho scelto questa fantasia con i soffioni a fondo grigio e li doppierò con un'imbottitura leggera questo per dare un po più corpo alla borsa i rettangoli dell'imbottitura sono esattamente identici a quelli dei soffioni come dimensioni e per tutto il video dove vedrete insomma utilizzati le parti appunto dei soffioni saranno doppiate con questa imbottitura quindi semplicemente posiziono l'imbottitura subito sotto al tessuto quindi ovviamente al rovescio e spillerò semplicemente i pezzi insieme poi invece se volete magari un effetto diverso potete anche trapuntare la stoffa poi ho tagliato altri due rettangoli questi qua con il cotone bianco sempre gutterman li ho rinforzati con una teletta termoadesiva e altri due rettangoli con la fantasia geometrica a fondo grigio questi qua non sono rinforzati infine abbiamo due pezzi che useremo per la fodera anche questi col cotone bianco e anche questi che rinforzerò con una teletta termoadesiva semplicemente andando a pressare con il ferro da stiro tutto l'elenco dei materiali che utilizzerò per questo tutorial lo trovate in descrizione tutto in vendita sul mio shop online un punto alla volta punto it inizio andando a cucire la pistagna questa questa qua praticamente un nastro in sbieco dove all'interno c'è un cordino e che vedete è già pronto e che potete andare direttamente a posizionare in questo modo sulla parte alta del della stoffa soffioni e appunto il il cordino è verso il basso invece a filo con la stoffa abbiamo la parte del nastro piatta la cucirò con un filo cucitutto gutterman in tinta con la stoffa dei soffioni e utilizzerò un piedino da zip per stare il più vicino possibile al cordino questo è il risultato finale poi della pistagna una volta applicata a questo punto ho tagliato i miei manici per le dimensioni fate sempre riferimento all'info box e praticamente vado a segnare i punti dove posizionare i manici con la squadra il pennarello per stoffe in questo caso segno due punti praticamente a 15 centimetri dal bordo sia a destra che a sinistra e poi prendo i manici posizionati così verso il basso lì allineo all'interno dei segni che abbiamo fatto e vado a cucirli sempre con il piedino da zip poi andrò ad applicare l'ultima parte questa qui bianca e praticamente la posiziono al dritto contro dritto con la parte dei soffioni allineo il bordo sempre nella nella parte alta del rettangolo fisso gli spilli prima ai all'estremità e poi nella parte centrale lavoro appunto tutte le parti centrali in questo caso perché comunque la stoffa se vedete tira leggermente così la riesco a distribuire meglio la cucitura che andrò a fare sarà sempre con il piedino da zip seguendo il diciamo lo spessore della pistagna e questo è il risultato che otterremo i margini di cucitura li stiro verso il basso poi vado ad applicare anche il rettangolo quello con la fantasia geometrica in questo caso vado a segnare innanzitutto con sempre la squadra e il pennarello questo qua è quello lavabile di prim dei punti a un centimetro dal bordo poi piego verso l'interno di due centimetri e allineo col centimetro insomma col segno che abbiamo appena tracciato e applico lo spillo applico gli spilli tutto nella parte alta e anche dall'altra parte piego verso l'interno di due centimetri sempre in linea con il punto che abbiamo tracciato con il pennarello farò una cucitura dritta un centimetro dal bordo infine prendo anche la parte della fodera la stoffa è al dritto contro dritto e anche in questo caso posiziono diciamo il rettangolo questo con la fantasia geometrica in maniera tale che sia centrato e che quindi ci sia il centimetro libero sia da una parte che dall'altra applico tutti gli spilli e anche in questo caso farò una cucitura dritta un centimetro dal bordo questo è quello che otterremo vedete che ci sono i vari strati tutti cuciti insieme qui in particolare vi mostro che i margini di cucitura li ho stirati verso le parti bianche della stoffa cuciti tutti i pezzi insieme adesso dobbiamo unire l'intera borsa quindi metto la stoffa il dritto contro dritto e inizio ad applicare gli spilli nei punti critici diciamo per far combaciare bene tutte le cuciture quindi tutta la parte della coulisse la parte della pistagna mi raccomando fatela combaciare bene e poi continuo tutto intorno quindi vedete qui faccio combaciare molto bene queste parti qui poi tutto il rettangolo della fodera e molto bene soprattutto anche la parte della pistagna spostando i margini di cucitura verso il basso andrò a fare una cucitura sempre punto dritto un centimetro dal bordo dalla parte esterna e una sulla fodera tutto intorno sulla fodera lascio una parte aperta almeno 10 centimetri che mi serviranno poi per sia fare questa cosa qui che faremo adesso sugli angoli ma anche per svoltare al dritto la borsa quindi entro all'interno insomma della della fodera adesso vi mostro le parti della fodera ma questa cosa qui la faremo su tutti e quattro gli angoli perché dobbiamo dare profondità alla borsa quindi apro in questo modo gli angoli la cucitura deve essere allineata sia davanti che dietro e praticamente formo un angolo di 45 gradi con la stoffa poi prendo il metro in questo caso con la squadra è più facile perché c'è la griglia interna praticamente a 6 centimetri dall'inizio della cucitura vado a tracciare una linea perpendicolare proprio alla cucitura fermo con gli spilli e cucirò esattamente sopra la linea segnata la stessa cosa l'ho fatta anche sull'altro angolo della fodera e farò la stessa cosa come potete vedere anche sulle parti quindi gli angoli della parte esterna della borsa ora sto andando a tagliare l'eccesso di stoffa a un centimetro dal margine insomma dalla cucitura che abbiamo appena fatto e a questo punto posso rigirare al dritto l'intera borsa spingo bene fuori gli angoli che appunto abbiamo creato adesso e infine andrò a ripiegare verso l'interno i margini di cucitura della fodera e chiuderò anche quella adesso praticamente ho diciamo posizionato la fodera all'interno della borsa e ho fermato con gli spilli tutta la parte alta e facendo combaciare bene le le parti vedete che la culissa è perfettamente piegata diciamo a metà adesso farò una cucitura tutto intorno sulla parte bianca vicino al bordo per fermare all'interno la fodera dopo aver fatto questa cucitura prendo il cordino questo è un cordino di 4 5 mm e la lunghezza massima insomma la lunghezza totale è di due metri e mezzo io l'ho tagliato a metà per avere appunto due cordini e se vedete le estremità le ho fermate con uno scotch di carta in questo modo è molto più semplice da lavorare e non si apre per infilare il cordoncino all'interno della culissa mi aiuto con l'uncino quello che solitamente utilizzo per rivoltare i tubolari di prim in questo caso è molto comodo per infilare proprio il cordino all'interno della della culissa è molto più rapido come metodo quindi entro con l'uncino artiono diciamo il cordino e lo trascino dall'altra parte faccio la stessa cosa sempre con lo stesso cordino sull'altra parte della culissa e se vedete praticamente ho creato una specie di u con il cordino quindi le due estremità sono dalla stessa parte e al posto dell'uncino potete utilizzare anche una spilla da baglia è un pochettino più lungo come come procedimento un po più macchinoso io mi trovo meglio con l'uncino però volevo farvi vedere anche questa alternativa l'altro cordino praticamente lo infilo al contrario quindi le due estremità del secondo cordino si troveranno tutte e due sempre dalla stessa parte ma dalla parte opposta rispetto all'estremità del primo cordino quindi una volta finito di infilare il cordino all'interno della della culissa taglio via diciamo le estremità con lo scotch e poi infilo questi farmacordini che danno comunque un aspetto un pochettino più professionale e meno diciamo artigianale alla alla borsa quindi semplicemente li infilo poi faccio un nodino che rifinisco poi con le forbici quindi se c'è dello sfilacciamento insomma lo tolgo e i farmacordini praticamente andranno a coprire questi nodi in alternativa potete anche tenere semplicemente i nodini quindi ovviamente metto i farmacordini su tutti e quattro l'estremità dei cordini questo è il risultato della borsa finita vi ricordo che tutti i materiali li trovate in vendita sul mio shop online ci sono i link giù in infobox e in infobox trovate anche il link per seguirmi su facebook instagram e tiktok io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo tutorial fatemi sapere se vi è piaciuto vi mando un bacione ci vediamo al prossimo video ciao